5 dicembre 1901. Nasce a Chicago Walt Elias Disney, produttore e pioniere del cinema d'animazione, padre di Topolino e Paperino. Nel 1923 Disney parte per la California con un biglietto di sola andata e 40 dollari in tasca e nel dopoguerra è a capo della più florida major hollywoodiana, The Walt Disney Company. Eppure anche Disney, così come Charlie Chaplin, subisce lo stretto controllo del Comitato delle Attività Non-Americane a cui denuncia come filo comunisti alcuni dipendenti. Muori a Los Angeles, in California, il 15 dicembre 1966.